Natale come possibilità di corrispondere in un certo modo all'amore che Dio ha da sempre per ciascuno di noi, ha da sempre e ha per sempre per ciascuno di noi. Natale desiderio di ottenere, soprattutto guardando a Maria, questa forza, questa capacità, questo desiderio di riamare un amore che in maniera totale e senza misura si offre per ciascuno di noi. Quando vediamo quel bambino, quando cantiamo i nostri canti tradizionali, dobbiamo sentire un amore profondo, vero, autentico, senza misura e senza nulla chiederci che ci viene dal Signore. Ma come fare per far nascere questo amore, per far nascere questo desiderio di riamare il Signore? Un amore così immenso come cantiamo spesso nella destra fidelis di riamare il Signore facendolo nascere nella nostra anima. Ecco che qui questo desiderio vero, profondo, può venirci solo, semplicemente e unicamente dallo Spirito Santo. Sì, sembra che a Natale lo Spirito Santo non c'entra nulla, eppure non c'è, non ci può essere Natale senza lo Spirito Santo, perché è la Trinità che si incarna nel Figlio. E noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, come facevano tanti, ma tanti, ma tanti santi, questo desiderio di riamare il Signore. Questo desiderio umano certamente questa forma umana di corrispondere all'amore del Signore. E voglio leggervi una piccola frase di un grande predicatore capuccino, l'attuale predicatore della Casa Pontificia, Padre Raniero canta la Messa, il quale dice che noi dobbiamo conquistare dentro la consapevolezza che amare Dio è possibile, che riamarlo è possibile attraverso l'aiuto, le ispirazioni e le operazioni dello Spirito Santo. Dice Padre Raniero, canta la Messa, esiste un amore per Gesù perfetto, infinito, il solo degno di Lui, un amore del quale non è possibile pensarne uno maggiore. E scopriamo che esiste per noi la possibilità di farne parte, di farlo nostro, di accogliere con esso Gesù a Natale. È l'amore con cui il Padre Celeste ama il suo Figlio, all'atto stesso di generarlo. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di avere questo stesso amore del Padre per riamare Gesù. E quest'anno voglio insistere su questa caratteristica, opportunità del Natale, di avere la possibilità di riamare il Signore, perché è questo il vero senso del Natale. Ed è possibile se noi lo chiediamo attraverso il dono dello Spirito Santo. Ancora Santo Natale, ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!